Marenostrum rappresenta una operazione di difficoltà elevata dal punto di vista tecnico. È un'operazione interdisciplinare che determina la necessità di un concorso di assetti militari e delle forze di polizia anche in ragione dell'ampiezza dello spettro di territorio marino che va ad essere coinvolto e dal suo carattere continuativo. Questo ha richiesto che venisse assegnato il coordinamento per la prima volta al Dipartimento Interministeriale Integrato per la Sorveglianza Marittima, il cosiddetto di ISM, che è posto sotto legge della Presidenza del Consiglio dei Ministri. L'attuazione di Marenostrum costa oltre 9 milioni al mese ed è auspicabile che resti possibile uno sforzo ulteriore dell'Europa per incrementare le risorse finanziarie destinate alla attività di sorveglianza marittima ospitate dall'Italia.